Ascoltare Dio significa necessariamente capirlo? E se Dio mi ascolta, perché non esaudisce le mie preghiere? Queste sono solo alcune delle domande che almeno una volta nella vita ognuno di noi si è posto. Cercheremo di trovare delle risposte a queste domande attraverso l'incontro Dall'ascolto di Dio all'ascolto di sé con Don Fabio Rosini. Un incontro che inaugura il percorso Ascoltare e Farsi Ascoltare, un percorso formativo promosso dall'Ufficio della Pastorale per il Tempo Libero Turismo e Sport della Diocese di Roma in collaborazione con Radio Più Roma. Gli incontri che andranno avanti dal 2 febbraio al 23 marzo ogni martedì dalle 20 alle 21 in diretta sul canale YouTube dell'emittente. Sarà possibile anche interagire proprio con i docenti. E allora vi aspettiamo!